Marco Bocci in ospedale, un video rassicura i fan Marco Bocci ricoverato in ospedale per una febbre molto alta. La notizia ha fatto subito il giro della rete e i fan dell'attore non hanno di certo nascosto la preoccupazione per il loro idolo. In effetti in questi casi la reazione è abbastanza normale anche perché il ricovero in ospedale è stato improvviso e qualcuno ha di sicuro pensato ad un malore per l'attore. Nulla di tutto questo però è accaduto. Marco Bocci è ricorso alle cure ospedaliere sembrerebbe a causa di una febbre molto alta. Consapevole però di essere un personaggio pubblico ha subito pensato di rassicurare i suoi sostenitori sulle proprie condizioni di salute. Per rendersi cura di lui in ospedale, oltre ovviamente al personale sanitario, che è l'inseparabile moglie Laura Chiatti, mamma dei suoi due figli, Enea di tre anni e Pablo di uno anno e mezzo. . Il video di Marco e Laura. Dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Perugia, Marco Bocci ha ben pensato di realizzare un video per rassicurare tutti i suoi fan. . Al fianco della moglie Laura Chiatti. . Marco ha invitato tutti i suoi sostenitori a stare tranquilli e ha spiegato loro che si sarebbe trattenuto in ospedale per fare qualche controllo. . Nel video pubblicato su Instagram infatti l'attore dice tutto ok, sto qui qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto alla grande. . Marco può contare sulla costante presenza della moglie Laura Chiatti che lo tiene stretto tra le sue braccia. . Con il video pubblicato su Instagram l'attore è così riuscito a tranquillizzare i suoi fan evitando anche inutili allarmismi. . La preoccupazione dei fan. . Essere un personaggio pubblico prevede anche delle conseguenze. . Appena infatti si è diffusa la notizia che l'attore che interpretava Domenico Calcaterra in squadra antimafia si trovasse ricoverato in un ospedale di Perugia, per i fan è scattato l'allarme. . Per questo motivo infatti la decisione di Marco e Laura di pubblicare un video per tranquillizzare tutti è stata molto gradita. . . Entrambi infatti lavorano nel mondo dello spettacolo e quindi sono consapevoli che in alcuni momenti devono anche dare delle spiegazioni ai propri fan. . . . . . . . .